Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho raggiunto una bella location solitaria qua vicino a Torino per il mio consueto allenamento nella natura e oggi volevo parlarvi con più calma del percorso Bella in Forma, il percorso che ti rimette in forma, in salute, bella fuori, bella dentro, in collaborazione con Laura, Laura Mistretta, Makeup Artist. Il percorso Bella in Forma è un percorso di ricentramento energetico. Lavorando sui layer psicologici, emotivi, fisici e anche quello della bellezza esteriore, riusciamo a raggiungere una centratura energetica. Cosa intendo? Raggiungere uno stato dove sei a posto con te stesso, il tuo posto è dentro di te, lo ritrovi, ti senti bene col corpo che hai, ti senti bene col tuo mindset che vai a fortificarlo ogni giorno, ti senti bene con la tua faccia, ti senti bene con te stessa. Il percorso Bella in Forma è un percorso dedicato alle donne che vogliono mettersi in gioco per ritrovare la propria energia, la propria bellezza, la propria fisicità. E si parte proprio dal fisico, perché io conosco poche donne che quando escono di casa non si truccano, non badano al loro corpo. Conosco invece donne che anche per uscire fuori di casa devono essere comunque vestite bene, truccate bene, stare bene. Quanto è importante il comparto estetico per una donna? Tantissimo. Noi uomini siamo molto più rozzi. Io stesso ogni tanto trascuro questo aspetto. Ecco perché farò un'indagine iniziale sui chili in eccesso, farò un'indagine per capire gli stili di vita e improntare da subito un buon lifestyle, delle buone regole di vita per perdere con tranquillità, anche con divertimento, i chili in eccesso senza fare allenamenti incredibilmente severi, senza fare diete severe. Lo sappiamo tutti che basta avere delle semplici regole e mantenerle nel tempo. Ci sono ovviamente dei tra virgolette segreti riguardo soprattutto questo periodo la parte ormonale, quindi a livello nutrizionale bisogna fare attenzione a certi ormoni come l'insulina, il cortisolo, ma al di là di quello se noi riusciamo a mangiare in maniera equilibrata e ciò vuol dire non cadere nell'umore ballerino e qua c'è tutta una serie di lezioni dedicate alla parte emotiva perché l'umore ballerino è quello che ti stravolge tutto, è quello che può rovinarti la giornata, è quello che quando sei proprio nella turbolenza emotiva ti fa mandare all'aria tutti i piani alimentari, ti fa mandare all'aria il fatto di voler fare ginnastica e quindi l'umore ballerino sarà sicuramente un punto centrale da capire bene e cominciare a agire nel senso di un umore stabile, una mente stabile. La parte dedicata alla mente è la parte del mindset, costruire la costanza, la tenacia, ragionare sul percorso, riuscire a avere una mentalità assolutamente robusta per resistere a tutte le distrazioni e ce ne saranno. Quanto è facile all'inizio avere motivazione e poi perderla? È molto facile, a meno che non hai una focalizzazione costante, non hai tutto il mindset corretto, ogni giorno bilanciato e centrato sull'obiettivo. Il percorso è personalizzato perché ognuno di noi ha delle dinamiche che lo bloccano, quindi la domanda che ti faccio è che cos'è che ti sta bloccando adesso. E io con la mia esperienza da Life Coach posso aiutarti a identificare le dinamiche bloccanti e sbloccarti per fluire, per far fluire la tua energia, per iniziare a immettere energia nelle cose importanti per te. Il percorso è fatto a tappe, ci saranno tantissimi feedback perché sono quelli che ci danno la misurazione dei risultati, ma l'intento finale è proprio avere quell'energia esplosiva, quella grande gioia di vivere, per vivere questa vita. Il reparto estetico è tutto un reparto invece che se ne occuperà Laura Mistretta. Laura Mistretta è una mua, una make-up artist da oltre 15 anni. Ho visto letteralmente io delle donne truccate da lei trasformarle da così a così, trasformarle l'umore. Spesso ho visto anche dei primi e dopo di donne che si stavano per sposare. E quanto è importante avere il viso a posto, perché quando ho visto delle donne che si illuminavano gli occhi, che erano pronte per quel giorno, allora ho capito anche la sensibilità di Laura. Laura è in grado di trasformare il vostro volto e non solo, perché man mano che la conosco, capisco delle doti nascoste, dei talenti che anche lei li sta scoprendo. Ultimamente ho capito quanto riesca ad abbinare le forme dei vestiti e i colori. ha una sensibilità che non è appresa, ma è innata. Lei ha la capacità di, con un colpo d'occhio sulla vostra persona, capire che cos'è buono per voi a livello di veramente abbigliamenti. E lo posso dimostrare su di me, perché mi ha letteralmente trasformato i miei outfit. Se in questo momento sentite di avere qualche kg in eccesso e un po' di demotivazione, un po' di stanchezza, molta pigrizia, allora contattateci, perché abbiamo questo metodo da proporvi. È un metodo di 28 giorni, perché in 28 giorni si innesca il cambiamento, poi si può continuare. Ma in 28 giorni avete un'idea di cosa può fare il nostro percorso. Le lezioni sono prevalentemente online, ma se avete la fortuna di vivere nei paraggi, sono previste delle sessioni anche in presenza. E poi ci sono dei bonus. Se in questo momento senti di avere bisogno di questo tipo di aiuto, contatta me e contatta Laura e ti daremo tutte le informazioni sul metodo. Woo!